Bella raga, sono con Gianni Falcatti12 e siamo in un LTS Questa è la con ti... Perché non ti riesco a editarlo? Che palle! Domani ti farò video a profusione di forza E raga... Speriamo che vincemo Raga scusate Ma sto cazzo di... Non so come si editano E non era meglio la live Perché la live è più facile Vabbè raga abbiamo stravinto Lo so che è meglio perché qua li devi editare È vero Raga... Questa è la terza volta Speriamo di vincere Speriamo di vincere Brote... Io sto vicino alle armi Così sta bene Sto nabetto Già ma pure se lo dice è stato sprecato perché poi sicuramente mi uscirà un video di 6 secondi Non mi ha mai nella vita io aprilo apri un video guarda che raga il mio canale è bellissimo video 6 secondi 7 secondi 13 secondi raga domani usciranno i video della season 8 please e vabbè raga domani finalmente editerò video della season 8 come si chiama che vuoi cosa no perchè io primo due volte intanto share e quindi mi edita un altro video e poi mi ripremo e si conclude un video di 3 secondi e il video di 5 minuti si è andato a cagare raga e speriamo che non succeda più già please ve li ormi comunque due iscritti ma vi volete iscrivere se no mi spezzo la no gianni gianni fai lo sponsor del tuo canale sul mio canale please di cosa devi fare domani eh anche io domani anche a me domani uscirà un video della season 8 però io proprio no perchè non so fare oddio chi è qui eh ciao e poi ho freguito di nuovo e perchè meh e ci credo 30 secondi perchè ho premuto due volte quindi raga se esce un'altra volta sto cosa io non edito più mai più video ma fangulo youtube vabbè vabbè raga come finisce sto round io mi sono tancato quindi concludo in video domani vi aggiorno usciranno i video usciranno i video sulla season 8 quindi domani usciranno più video sulla season 8 che su GTA però saranno quelli che domani non li faccio però raga domani usciranno troppi video della season 8 cioè saranno tutto l'elenco dei miei video saranno della season 8 no è tanti anzi è pure un video non farò da 10 minuti in modo da un poco perchè sono un po' stanco vai 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 what raga avete visto e la mano madò bro se ci devi che combo madò madò adesso ho preso uno raga giorni in poi non vi direi da un video che questo ho fatto se esce il video ho complito ancora c'è la raccolta e lo spiro vivamente raga a me non curva la macchina le so fare devi pari e quindi raga qua sto facendo una kill no non vi direi raga io ho fatto una kill ok abbiamo vinto in round e raga il video finisce qui a domani bye bye bye